Sono ricominciati i corsi di sicurezza stradale del progetto Stop Simpara, un'iniziativa di Acilucca, Comune e Polizia Municipale. La cabina di regia è approdata questa mattina alla scuola primaria Martini di San Marco. Qui le classi 5B e 5C hanno seguito i corsi a passo sicuro e due ruote sicure. Al motto di Se vuoi fare strada dai strada, più di 30 studenti hanno imparato le buone norme di comportamento da tenere a piedi e in sella a una bici, i diversi segnali stradali e le regole da rispettare per una guida sicura. Noi la sicurezza stradale la stiamo portando in tutte le scuole, partendo proprio dalle scuole elementari. Per quale motivo? Perché è da piccoli che veramente uno si fa la prevenzione vera e propria e quindi di conseguenza si spera che un domani, quando diventeranno adulti, siano ragazzi e persone adulte che rispettano il codice della strada. Questo è fondamentale in questo momento, insegnare proprio i primi passi per muoversi nella strada. Siamo qui a insegnare attraverso il gioco le regole della sicurezza stradale. I bambini sono molto contenti, molto attenti, reagiscono bene e chiediamo loro di diventare proprio ambasciatori della sicurezza. Quindi attraverso appunto le regole che cerchiamo di insegnare in maniera, ripeto, molto giocosa ma arrivare al messaggio importante che la vita è una e va rispettata in ogni momento.